Ciao Keynian Live! Un altro piccolo tutorial sulla rotazione. Questa volta mostro per rotare un clip dal smartphone rotato da 90 gradi. Ho un po' di questo clip perché qualche volta ho iniziato a registrare un video e dopo qualche seconda ho iniziato il smartphone orizzontale. Bene, prendiamo un clip di portratti questo è il portratti, fatto da un smartphone questo è un screen, un screen di laptop in un'altra direzione. Non ho mai avuto il cambiamento di profilo clicco di cancel clicco sul clip right mouse button clip properties second choice not the first, the second enable the flag on disable autorotate this makes the clip on landscape mode there are no changes on speed processing on timeline the clip, the video and this is a very very fast way to have the rotation uplift by the way if the rotation is wrong sometimes this happens also is necessary to rotate by 180 degree again this can be made very easily using the flip off effect flip off is an effect that switch x axis and x axis and this makes a rotation of 180 degree place the effect and the image is rotated this makes users able to rotate on left, on right a brown clip see ya